Siamo la discoteca Paradiso, Another Night in Paradise, grandissimissima serata e tra gli ospiti abbiamo qui Noelle, ciao, ciao a tutti, ciao, ciao. C'è appena proposto il tuo nuovo singolo DJ Boy, vuoi raccontarci qualcosa di questo pezzo? Sì, è un pezzo dance, è uscito da poco, da un mese circa, l'ho composto io, lo scrivo io e quindi vado particolarmente fiera Lo sto proponendo in giro per le discoteche e poi in particolare mi sono trovata molto bene, davvero, bella energia, molta gente. Senti, dove possiamo trovare il tuo CD? Sì, nei negozi di musica, sono anche su iTunes, Beatboard, tutti i possibili luoghi, insomma, potete averlo fisicamente prendendolo nei negozi oppure anche via internet. Senti, vuoi raccontarci come sei arrivata a questo grande passo? Qual è il tuo percorso artistico? Allora, io nasco come ballerina, per cui ho iniziato ballando per i cantanti, cosa di cui mi sento molto fortunata perché ho avuto il piacere e l'onore di ballare per De Linguetta, per Corona, per Paola e Chiara, Marco Mengoni, insomma, tanti grandi artisti per cui è stato sicuramente bello ma anche utile poter ballare per loro e capire il meccanismo. E adesso ho fatto questo passino in più e ho deciso di mettermi in prima persona a cantare i miei pezzi, vai a ballarli insieme alle mie ballerine. Vuoi presentarle? Sì, molto volentieri. Denise e Ilenia, sono due grandi ballerine che mi affiancano in ogni mia esibizione. Allora, grazie a voi per essere stata qui, ti auguriamo veramente di in bocca al lupo per tantissime belle cose e un grandissimo successo. Può fare un saluto a tutti gli amici Xhacker? Certo, ciao a tutti. Un bacio. Ciao, ciao. 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 Ciao.